musica 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 benvenuti ragazzi io sono Gizio e oggi si vede con i miei miei Starforce 2.0 KRIX NINJA comunque partiamo col primo IF di oggi eh? sta tirando fuori qualcosa? e per me? annuisce non lo tiene sfondo solo, non sfondo per il mio navigatore posso impostarlo e accendere la schermata ho già togliato lo sfondo di solo niente, niente, ragazzi ho preso tutte le carte per questo stage uff non ho letto, sono qui per impedire il ritorno di Apollo Flame, quindi ci lascerai aprire quel varco, davvero? sono Orp Note EF nessuno può darmi ordini da queste parti se credi che ti lascerò comandare ti sbagli di grosso, preparati a essere eliminato ok, la ragazza ha carattere la ragazza ha decisamente molto carattere e più punti vita di carattere in realtà però guarda nooo, la ragazza ha capisciato è invisibile per una fortuna quello se non mi avrei stancato è invisibile per una fortuna vediamo un po' come fare i contoattacchi salve guarda quella è una cassa non devo coprire le casse il mio proiettile ok il mio proiettile è in questo paese au wow non ti guida la ragazzina spostati ok controattacco wow ce l'ho uno contro Orp Note questa cosa è che imbarazzante nooo sono confuso non sono confuso vediamo chi vince eh? 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 mi errore cosa? è un contro attacchi? ferma quel culo fermi era un contro attacchi beh no 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 so andyy ooo morire con un flegge tanto che ho un diputito nooo wow guardalo lì di quel attacco che volevo io down scusi mah è sta veramente rompendo le scavole no 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 mi assaggia no 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 e me Wow! Oh, grazie! È così gentile, ma perché vuoi farmi provare la carta giusta? I've not yet, eliminato. Ah! Sei tu il corcoranio di cui parlava dal Phantom? Eh! Presto il potente Apollo Flame si sveglierà e soffrirai le pene dell'inferno! Però tu intanto sei morta! Il che è un montaggio mio. Sì, il sito di Arpnot è stato spezzato. Casalbavolief, sono da te. Dammi solo un po' di minuti per riperdermi. Snipsnap! Chi sei? Attento ragazzo, hai letto un sacco di UDM. Sono Casalbavolief, qui sono io a dare gli ordini. Chiunque qui al mio lavo la pagherà caro. Attento ragazzo, eccolo che arriva. Sono pronto! Snipsnap! Servi! Però, meno lo stesso. Ragazzi, se pensate che questo tizio sia facile da sconfiggere, avete già perso. Oh, è troppo veloce! Chittiamolo, ha inventato questo uomo! Seriamente! Chi l'ha inventato? Chi ha mai pensato di dire... Ehi, è cancer! Non è difficile fare fuori cancer! Andiamo! Chi mai penserà che sia difficile fare fuori cancer? Mi piace... Mi piace, è fottuto me, è infastibile! Mi piace, è fottuto me, è infastibile! Ho! Zupia! Ufff... e vivo? Uuuuuh... Zup. Come lo...devo eliminarlo subito oppure muoio! Ufff Oddio ragazzi Non sono mai stato così concentrato in vita mia Oddio Se devo scomparire Ti porterò con me Che devi dire Svelto ragazzo Il sigillo di Cancer Bubble è spezzato Ok Ok Terzo luogo E ultimo per oggi Perché a voi non si va Ma io faccio una fatica Ragazzi io veramente 666 di vita Non bene e non male Non lo so Chi sei? Cosa sei? Sono io di Blizzard TF E da queste parti comando io Oh che fortuna Mi sto annoiando da quando Apollo Flame si è addormentato Ho voglia di eliminarti Geno Coraggio Salve lei Quanta vita avrà mai? 4000? No spero di meno Ok Ok come Come Taurus O Taurus ne beva di più Ragazzi non ricordo No Ok Mi dico sempre ragazzi che devo togliere Trova carte E effettivamente mi servirebbe tantissimo Fai la balagna Fai la balagna Fai la balagna Gaglietti Ci sto anche morendo Ci sto morendo Fai la balagna Grazie No 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 Perché? Chiara? Va bene va bene Giochiamo Giochiamo non ci credo, ho rispito... ho rispito a guarda no, no, no credo di essere un po' matto sono vivo come diavolo no, ok, ho bisogno di non parire, ho bisogno di non parire, ho bisogno di non parire perché se no mi andiamo avanti no 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 Nooo, mi chavo che fosse un buccan! Nooo, così vichini! Ah oh! Porca la mia stai ferma! Pensa a qualcosa, pensa a qualcosa, pensa a qualcosa! Non ci credo! Andiamo! Purtroppo la legge non è considerata! Quante volte ci sto morendo per gli utilizzer? Davvero! Più troppe rispetto a necessarli! Io pregio i piedi! E va bene! Nooo, non ci credo! Sto sclerando! Sto sclerando! Devo togliervi almeno un punto vita perché ha 666.1! E' una maledizione! E' una maledizione veramente che si ho inserito la cappa! Perché la 666.1 non può farlo! E' una maledizione! Maledita! E' una maledizione! 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 Non ci credo, gli ho fatto un counter così, ma muoio... Dio, sono moltissimo... Un amico eliminato... No! Ho trovato spazio... Bene, ok, ho failato abbastanza perchè oggi... Ragazzi sono esausto, è due ore che sto registrando... Ragazzi se il video non ci vedete, lasciate un commento, mettete un mi piace, iscrivetevi... E mi raccomando, sostenetevi per questa parte bonus che mi sta veramente veramente sfinendo fino adesso... Quindi noi ci vediamo nel prossimo video... Bye ragazzi!